Una figura importante per Ravenna ma anche per l'Università. Io credo che oggi sia una giornata importante per tutto il paese. Quasi 100 anni fa, 98 anni fa, Don Minzoni rappresenta un insegnamento per i giovani di oggi, per gli italiani di oggi. Per noi è molto importante parlare di questa vicenda e soprattutto sottolineare il fatto che la memoria di quel martirio è una memoria oggi assolutamente presente, sono passati quasi 100 anni, ma le ragioni di tutta quella vicenda sono qui e sono qui con noi. Quindi per noi è importante oggi esserci di nuovo, essere di nuovo a sottolineare quella storia, quella figura, una figura così limpida, così importante, non solo per la Romagna ma per tutta, veramente per tutta l'Italia. Mi fa molto piacere che sia stato invitato oggi a essere qui a Ravenna, appunto, a dire queste parole e a testimoniare questo attaccamento molto forte che tutti noi abbiamo, una figura esemplare, una figura che ha fatto veramente la storia del Novecento ed è una figura che oggi, in un altro secolo, continua assolutamente a dare dei messaggi forti, importanti, che noi vogliamo che siano ancora forti e importanti per i giovani di oggi.